Il Casale della Falcognana, situato alla periferia di Roma, è un'antica e nobile residenza del Quattrocento che custodisce spazi magici e incantevoli al chiuso o all'aperto, dove poter celebrare il vostro ricevimento di nozze da sogno. Internamente il piano nobile, con le sue splendide sale affrescate, può accogliere fino a 200 invitati, con un allestimento a buffet e fino a 150 comodamente seduti. Nell'area del Casale, invece, risiedono la splendida Sala del Camino e la Sala del Banchetto, rispettivamente da 80 e 150 coperti. Esternamente il Giardino Segreto, che può accogliere fino a 200 ospiti, e la suggestiva corte, dove possono accomodarsi fino a 500 persone, vi permettono di usufruire delle giornate calde e dell'ambiente romantico creato dal cielo stellato, conferendo così un'atmosfera bucolica al vostro ricevimento. Il personale altamente qualificato del Casale della Falcognana è in grado di offrirvi un banchetto magnifico e curato nei minimi dettagli, e mette a vostra disposizione degli chef professionisti, che personalizzeranno ogni menu a vostro piacimento, curando ogni aspetto, dalla scelta dei prodotti alla presentazione delle pietanze. Assecondati in ogni vostro desiderio presso il Casale della Falcognana, avrete la possibilità di vivere un matrimonio indimenticabile, in una cornice da favola.